Ragazzi, ovviamente io ci tengo a sottolineare che noi su YouTube portiamo intrattenimento, vogliamo far passare quei 10-15 minuti alle persone che stanno soffrendo in questo momento per il coronavirus. Noi siamo vicini a queste persone, quindi noi cerchiamo di far distrarre in qualche modo con i video le persone, ma siamo molto vicini alle persone che purtroppo non stanno bene. Noi siamo chiusi qui a casa da più di una settimana, stiamo rispettando tutte le regole date dal governo, dal decreto io resto a casa, restiamo a casa tutti insieme e ce la possiamo fare. 5000 mi piace e facciamo questa sfida con gli arancini o arancine. Ragazzi ecco gli ingredienti per la preparazione dei panzarotti, allora partiamo dall'ingrediente base, patate, prezzemolo, pangrattato, pepe, sale, pecorino e parmigiano. Le patate sono state già lessate con acqua bollente, poi dopodiché sono state schiacciate nella schiacciapatate e poi raffreddate 3-4 ore, qualcosa pure in più. Ora c'è tutto il procedimento e vi facciamo vedere. Ok, andiamo col procedimento. È una palla. Vai. Ah ragazzi, buongiorno. Ok ragazzi, preparazione qui dell'impasto per i panzarotti. Mamma mia. Ci aspetta una grande sfida qui, eh. Vai, papà. Proprio più ma... Questa è la preparazione, voglio... E ci vediamo dopo quando saranno tutti pronti. Ragazzi, ecco i panzarotti. Ora andranno nel frigo e li mangeremo domani. A domani. Ciao amici di YouTube, qui con voi e ciao di un zai oggi. Siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, siamo in una sfida veramente incredibile con il cibo. Perché oggi ragazzi sfideremo 100 panzarotti. Mamma mia. Sono qui in compagnia di mio fratello. Ciao ragazzi. In compagnia di papà. Ciao ragazzi, mi vuole fame. Sono le tre, ci abbiamo messo un botto per fare questo video. Ringrazio mia mamma che li ha preparati. E niente ragazzi, questi si chiamano panzarotti. Noi napoletani li chiamiamo panzarotti. Sono con sale, pepe e prezzemolo. Però in teoria si chiamano crocchè di patate con sale e pepe. Crocchè di patate napoletani. Vi invito subito a lasciarmi un mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, è molto importante. Quindi iscrivetevi. Seguitemi su Instagram, questo è il mio profilo. Molto importante anche qui. Carico cose in esclusiva, quindi seguitemi tutti. Maglie da calcio, link in descrizione. Mi raccomando, 15% di sconto con il codice ZAI. Quindi passate in descrizione per qualsiasi maglia da calcio. Ed inoltre scaricate anche OneFootball. Primo link in descrizione, mi raccomando. Scaricatela tutti che è la migliore applicazione sul mondo del calcio. Tutte le notizie appunto sul mondo del calcio le trovate su OneFootball. Basta scaricare il primo link in descrizione. Tanto è gratuito. Scaricatela. Direi che non perderci in chiacchiere. Iniziamo subito. Vediamo chi vincerà questa sfida. E andiamo. Andrà tutto bene. Io prendo questo bello croccante. Io prendo questo bello... Ragazzi, è uno. Ragazzi, oh... No, lo fa Ciccino. Che buono lo sanno. Ciccino, lo vuole Ciccino. Buonissime. Mamma mia. Sono piccise, perché? Mi sono ancora a metà. Mi salita molto il pepe, molto il pecorino. Ragazzi, mia moglie cucina bene. Ragazzi, non ho paura. Un andato. Giusto e due. Facciami. Primo andato. Due ce l'ho mangiato. Terzo. E' un'altra dei primi. Sei. Assaggiato qualcosa. Secondo. Oh, come è? È difficile andare giù. Eh. Ha c'è un'amore di gara, però. È così, è un po' buono. È un po' buono. È un po' buono. Quattro. Quattro ragazzi. Quattro per me. Questo è il terzo. Quattro. Ma che l'aria ti fa mangiare. È un pazzo d'otto a mamma, ce lo concediamo. Cinque. È veloce. Oh, la scaletta. Tre, quattro e cinque. Questo è più buono. Cinque. Cinque. Sto già troppo gianne. Sei. Vabbè. L'ho visto. Grande. Quattro. Sono buonissimi. Sono buonissimi. Questo non è bello. Sei. Da un secondo me si fa i cinque, ci mangiamo la pulita di cinque. Settimo. Sesto. Otto. Sette. Spettacolo. Sono buonissimo. Otto. Sette. Quindici. Tu. Sette. Questa è il settimo. Ottavo. Otto. Vuoi più? Nove. Sto decidendo. Pensando ad andare in difficoltà. Nove. Cristina, ti fai questa Cristina. No. Avevo bisogno. Questa energia. Ricordatelo. Dieci. Ma dieci, undici. Non stai accennando. Dieci. Dieci. Ma non pari che stai? Ottavo. Decimo. No, vediamo. Non stendono. Sto difficili da mandare giù. Eh, tu ma la mano, ma la mano, ma la mano, ce la fai. Undici. Quindici mi fermo. Basta. Non mi pari, va. Continuiamo. Mamma mia, non mi pari lì. Dodici. Siamo carichi. Ricordate che questa è carica per me. Undici, vai. Sono con 12, eh. Tredici. Dodici. 15. Mi fermo, eh. No. Quando ce la fai? Poi. Ci hanno fermato, ma. Ah, ma l'engono, l'engono di ebeto, papà. E' decido. No, per me sta proprio... No, 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 no. A decimo, ma è meglio. 13, 18, 18, 18, 20, eh. Mi si bella. 13. 15. Mi fermo. Un altro. Ragazzi, io mi fermo. 15. 14. Conto super di più. Piccolino, no? No, prima ma hai mangiato tanto, era. 13 e mezzo. 14. No, la cosa è, no. Chi ci avevi messo mangiato tu qua? Che te? Acidi tutto con l'altro. 16. Vi saluto. No. No, veramente. Abbandono. Già, per più. No, non è, non volessi mangiare città, però, ragazzi. Meglio evitare. Da, arriva a 20. Oh, oh. A 20? A 20. Sono qua a 16. Eh, dai, dai, qua. Da 20. Questi 4, eh. Te l'ho avvinto. Dai, ma, quando ti ricapita una sfida così? Pagano, chiami più. 17. Raga, questi se venite a Napoli li trovate tipici nelle fritturine, eh. 18. 16. 18. Basta, non ce la faccio. No. Ce la faccio. No, gli ultimi due. Mi fermo. Eh, ma sei buone, chissi. 19. No, ma c'è come il gel gel gel. 18. Arriva a Egitto, dice no. Ragazzi, Egitto ha vinto. 20. Sare formato a Sirice. Una nuova. 15. 16. 17. 19. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 30. 21. 23. 67 20 quando a me ha ben tu ho superato a papà è una cosa fermata 19 ma ne può fare una virus per poterlo alla luciana lo spaventino preso proprio pack resistire vacca che aveva tutto e due simonati tiri di compia presenta però mano a mano ci scompi 22 22 22 la scala 22 mi aspettavo la metà solo di mangiare stavano la tratta la youtube anche io ragazze ma ci dà degli stessi mostrati sceglie mano ma chi fa solo vedi un po magno sei bravo da di figurati numero uno da di ma fanno vedi di tatine e toni tubo ma non li vogliamo 23 23 ma pure tu tieni il blocco qua di patate io qua dal primo morso c'è molto tempo tempo abbastanza 24 25 che cazzo vuoi attacco a youtube anche io 26 26 non si ferma 27 no ma solo questi voglio ma è messo spunto cosa diventa lasciare messo spunto basta ma non vanno a giù o pace la conca basta sono difficilissimi da mandare giù ma veramente sale da pomita va beh ragazzi il video può finire qua se questo video è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivetevi al canale ragazzi sono rimasti solo questi sono rimasti 29 no 28 28 no 27 27 boh quasi una trentina abbiamo mangiato abbastanza è difficile sono buoni sono buonissimi ma ma rimanano incominciano ad essere pesanti niente ragazzi da me da mio fratello da mio padre dalla sfida di 100 panzarotti è tutto noi ci vediamo al prossimo video bello già cacca angelitto vado a vomitare